dalla Corte. Grazie. Ci siamo? Gribaudo. Gribaudo a posto. Sberna in arrivo. Rizzetto anche. Borghese. Eccoci. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'1.6 Chimienti. Prego, onorevole Chimienti. L'ultimo. Grazie, Presidente. Colgo l'occasione fornita dal contenuto di questo emendamento per ricordare che i lavoratori del comparto hanno già mostrato il loro grande senso di responsabilità nei riguardi del meraviglioso patrimonio storico-artistico di cui sono i custodi. Lo hanno fatto dieci anni fa con l'accordo di comparto siglato presso l'ARAN. Questo accordo è dell'8 marzo 2005. Prevede, relativamente alla fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei veri e propri periodi di franchigia in cui il diritto di sciopero non può essere esercitato. L'accordo parla di protezione, vigilanza e custodia dei beni ed eleva queste fattispecie al rango di servizi pubblici essenziali. Credo quindi che sia del tutto pretestuoso andare a ritoccare per legge i contenuti di quell'accordo, dal momento che non esiste apertura di un sito senza la sua vigilanza e che la vigilanza è considerata già da dieci anni servizio pubblico essenziale a tutti gli effetti. Grazie. Grazie. Metto in votazione l'emendamento 1.6 Chimienti, parere contrario Commissione-Governo, favorevole della relatrice di minoranze. Aperta la votazione. Totaro. Ci siamo? Rampi. Businarolo. Martella in arrivo. Liuzzi anche in arrivo. Pellegrino in arrivo. Ok. Grazie.